tecnico della telecom essere amore significa sfarsi la cura dvb antonio rossi questo non è il suo vero nome dopo essere andato in pensione come tecnico della telecom ha scritto questo testo autobiografico sul suggerimento di alcuni amici di evolvenza chi scrive ha poi commentato il testo con delle note alla luce di ciò che finora compreso dell'insegnamento sincretico dei maestri disincarnati antonio rossi ho deciso di scrivere era tempo che pensavo di farlo ho esitato molto poiché ero convinto che solo gli scrittori giornalisti ed esperti del settore potessero scrivere come è evidente non ho affatto la pretesa di essere uno scrittore ma credo che qualsiasi individuo che abbia vissuto una sua storia non proprio banale ma densa di avvenimenti e soprattutto di sofferenze possa essere in grado di raccontare ad altri ciò che gli è accaduto ma perché parlare agli altri del proprio vissuto a chi può interessare forse agli amici e i parenti i quali hanno avuto in qualche modo un ruolo di comparsa nella tua storia ma chi ti dice che sei stato proprio tu il vero protagonista a queste domande c'è una sola risposta io non intendo raccontare la mia storia ad altri ma scrivo per me stesso per comprendere meglio ciò che mi è accaduto e poter così analizzare con spirito critico il lento trascorrere del film della mia vita dove io ero e sono solo una mediocre comparsa questo mio scritto non vuole essere un'autobiografia o una memoria per i posteri ciò che mi è accaduto è troppo bello per tacerlo è troppo doloroso per tenermelo dentro è forse troppo interessante per non rileggerlo a me stesso ed è anche troppo denso di emozioni e sentimenti che hanno cambiato radicalmente la mia vita e la mia interiorità la mia vera storia inizia in una età adulta quando cominciai a comprendere il senso della vita ma forse è meglio ripercorrere la strada che mi ha condotto a questa soglia secondo genito di sei figli tra fratelli e sorelle ho vissuto la mia prima infanzia nel profondo sud della nostra cara patria a proposito di patria non ho mai ben capito perché oltre le alpi ci siano altre patrie altri confini e soprattutto perché noi siamo italiani e tutti gli altri sono stranieri cioè estranei a noi nell'immediato dopo guerra ero appena un marmocchio che per sfamarmi mangiavo carrubi al posto dei nutrienti omogenizzati dei nostri giorni mio padre ferroviere con un modesto stipendio aveva imparato a fare il triplo salto mortale per sfamare tante bocche tra figli e zie in attesa dei mariti dispersi in russia è rimasto vivo in me un episodio in cui un giorno mio padre cercava di catturare una gallina sfuggita dal recinto della masseria poco distante dalla nostra casa la pollastra si rifugiò in un cunicolo molto stretto ma mio padre non si diede per vinto e si infilò a sua volta in quella cunetta appena sufficiente per far passare un uomo non certo robusto commenti al contrario di quanto credono in molti la condizione umana proprio perché è molto materiale e ancora densa di sofferenza la vera protagonista di ciò che accade a noi e alle persone con cui veniamo in contatto e la nostra coscienza è la loro che nella realtà è un'unica coscienza fino a quando è uomo l'individuo non è mai giustamente critico perché la sua visione delle cose è traviata dal suo io ognuno è il regista il protagonista la comparsa lo sceneggiatore operatore lo scenografo il costumista e chi più ne ha più ne metta della sua vita è bello scrivere qualcosa che possa essere utile agli altri il dolore produce i suoi massimi frutti quando è celebrato nella propria interiorità nella realtà quello che ti è successo e l'esperienza più interessante per te perché tu stesso l'hai prima creata e poi vissuta poche vite cambiano radicalmente l'interiorità di chi le vive il concetto di patria ha poco senso nel momento in cui ubbidendo alla legge un numero sempre maggiore di popoli si fonde con altri popoli la comunione non contempla più le straneità quando mio padre mi raccontava della ritirata di russia dove i nostri soldati sono andati in decine di migliaia e sono tornati in pochi io credevo che anche quella ritirata era stata il trionfo del caso per cui chi moriva e chi si salvava chi era disperso e chi tornava in italia dopo anni di tremenda prigionia fosse ammassato in un destino in forma e senza senso i maestri materiali invece spiegano che niente è dovuto al caso ma tutto è regolato da una legge perfetta presente nella coscienza di ogni individuo come scintilla divina scarletta la legge perfetta presente nella coscienza di cui non ti sono andati in coche cambiamenta sangla sangla sangla